L'Abruzzo vicino al lockdown. Il comitato tecnico scientifico ha chiesto la zona rossa, ha detto il presidente della regione Marco Marsilio, e ho ricevuto l'ok dal ministro della salute Speranza. Nelle prossime ore quindi potrebbe essere firmata l'ordinanza. La situazione è complicata, dove si stanno spostando dei focolai anche sulla zona del Terramano, zona costiera, zona costiera del Pescarese, della zona dell'Alto Vastese, e quindi si sta pensando di effettuare ristringimenti che porteranno probabilmente alla zona rossa, anche se ad oggi non è stata firmata nessun tipo di ordinanza, per cercare di limitare i problemi, ben sapendo che le strutture sanitarie sono quasi alla saturazione, e quindi cercando di prevenire il più possibile e fare in modo che dai primi di dicembre si possa pensare a delle riaperture. E la regione sta valutandosi adottare misure più restrittive di quelle imposte da Roma. In Abruzzo infatti potrebbero chiudere anche le scuole elementari e medie, ma non tutti sono d'accordo. Il DPCM prevede che le scuole, da quelle dell'infanzia fino alla prima media, rimangano aperte, ha detto ieri sera sui sociali il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e così deve essere anche in Abruzzo. Marsilio però non ha ancora deciso. Prima eravamo la regione che aveva tutto sotto controllo, tra i migliori in Italia e i migliori rispetto alla media nazionale. Il giorno dopo gli ospedali erano saturi, mentre qualche ora prima si diceva che appunto tutto era sotto controllo. Successivamente, la mattina, il direttore del Dipartimento della Salute ci dice che stiamo in zona gialla, i dati sono quelli, il pomeriggio entriamo in zona arancione. Oggi ci si anticipa, andremo in zona rossa perché tanto tra qualche giorno ci metterà il governo in zona rossa. Dà l'idea dell'assenza totale di polso e soprattutto in un contesto così delicato, io credo che la credibilità delle istituzioni passino per un messaggio chiaro, ponderato, ma che non ammette replica.